Il Terina perde 5 a 0 a Montepaone, abbiamo il dirigente Bifano, oggi siete venuti in formazione rimaneggiata, però avete lo stesso tenuto il campo, anche se forse il Montepaone si è dimostrato più forte? Sì, sicuramente la differenza tra le compagini c'è e si vede, anche la posizione di classifica, certo noi siamo venuti in formazione rimaneggiata perché questo non è il campo dove pretendi a questo punto della stagione di fare punti o magari altro, perché comunque noi abbiamo fatto un campionato dignitoso, ripeto. Mi scusi, avrete Rombiolese e Staletti in casa, è lì che vi giocate la tranquillità per poter mantenere la prima categoria? Sì, a parte che noi in casa siamo una squadra molto, quest'anno abbiamo perso una sola partita, il resto abbiamo fatto 4 pareggi e le altre vittorie, quindi il nostro è un campo molto tossico in casa, anche se vedo più o meno i giochi ormai sono quasi fatti, le posizioni più o meno si stanno delineando, anche perché sotto hanno mollato, vedo l'unica squadra che potrà risalire la china, il Mileto, per il resto non vedo un gran, anche perché ormai c'è qualche compagno che è già mollato da tempo. Noi in telecronica abbiamo identificato Costabile e Vaccaro come i migliori in campo, ma nessuno ha demeritato, in particolare Gallo che ha corso fino alla fine su ogni pallone in attacco, è un bel segno per il calcio. Sì, sono ragazzi che comunque, te l'ho detto, i migliori li abbiamo lasciati a casa, anche perché sono due infortunati, due squalificati, quindi alla fine te l'ho detto, ripeto, non era il campo per poter fare punti, anche perché visto la qualità di gioco del Montepaone penso che una differenza tecnica si è vista e anche con la squadra al completo ci sarebbe stata. Ed eccoci ora con mister Pisano. La pratica terina liquidata nella prima mezz'ora, quando il Montepaone ha capito di aver vinto e poi gestita con consapevolezza della squadra forte che pensa già al futuro. Sì, fortunatamente abbiamo approcciato bene la gara e quindi ci siamo messi nelle condizioni, siamo stati nelle condizioni di poterla gestire anche in alcuni frangenti, però l'importante era sbloccarla perché non sempre noi siamo molto freddi davanti alla porta, quindi anche oggi abbiamo sbagliato molte occasioni. Prima di chiuderla ce n'è voluto perché abbiamo avuto diverse occasioni non sfruttate, però mi è piaciuto perché i ragazzi hanno fatto l'ennesima prestazione importante con una fluidità di gioco che mi ha contentato notevolmente perché ho visto una squadra veramente brillante. E se quello importante potrà essere il test con la Rombiolese in casa, c'è un Chiaravalle che vi aspetta e voi forse proprio con le squadre più vicine nei derby avete sofferto qualcosina in più fino ad oggi? No, noi il test più importante è il prossimo che viene, quindi Chiaravalle non è Rombiolo sicuramente, stiamo pensando al Chiaravalle da subito e quindi è giustissimo approcciarla in un certo modo, magari come l'abbiamo approcciato oggi con la giusta convinzione, consapevoli che davanti abbiamo una squadra forte, non abbiamo sbagliato molte gare, io credo che di partite ne abbiamo sbagliate veramente poche, quindi non credo che c'entri il derby, è una partita difficile perché noi giustamente adesso a quattro partite dalla fine sappiamo che abbiamo nel mirino un obiettivo che adesso lo vediamo in realtà, non pensavamo di poter essere così bravi da arrivare a quattro giornate dalla fine a vedere un obiettivo così importante, quindi a questo punto è normale che si possa innescare un po' di pressione sui ragazzi che però secondo me saranno bravissimi in settimana a lavorare come hanno sempre fatto per superare anche questo ostacolo. E allora in bocca al lupo, oggi in panchina c'erano due millennials la cui età sommata forse non raggiunge l'età di mister Pisano. Beh guarda, questo è la soddisfazione di questa, deve essere la soddisfazione di questa società, aver chiuso oggi la partita con cinque fuori quota, avere fuori quota molto più piccoli del regolamento perché per regolamento giocano i 96, noi abbiamo i 2.0 e i 99 ed essere così avanti in classifica con la possibilità di giocare con questi ragazzi credo che sia un successo importante.